aspetta o io aspetta ora che allora io lo dico si ok io lo dico se adesso ci stanno tre prove concrete ma proprio concrete come gesù cristo veramente da fuoco al cespuglio sul monte sinai no ragazzi ragazzi no noi siamo spaccati tutti voci nero allora aspetta fanno passato ma aspetta chiudì un attimo dove è una cosa niente a te è morto aspetta ma chi risponde sto sto dove sei appena voglio usci si chiude la porta ecco è per forza qua c'è dio e se c'è dove e se dove perché ce la vede il taccuino ha fatto cacare il mazzo prova lasciaglielo digelo scrivi qualcosa su questo strato di taccuino c'è qualcosa che non va quando sono entrato adesso la telecamera ha fatto tenere bizze proprio qui nonostante la luce allora aspetta dove sei mi senti dove sei mi senti dove ha detto come al piano di sotto anche loro ok arriviamo proviamo beh c'è il congelamento è già una prova tu ho bisogno che picchi e gradi su qua spegni tutte le luci qua dentro spegni tutto dove sei se mi che vuole a voi pure c'è la piadella si o no a me non fiu a me si vediamo se rilevo quando non c'è oh ma c'è uno scheletro qua dove io non c'era sto scheletro eh l'ho raccolto eh si grazie c'era una cassa toracica dove sei dove sei si si qua è l'entrata dove scende quindi consideriamo come prova si anche perché scende addirittura sotto lo zero quindi per forza allora per forza guarda 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 sta arrivando no ha un risposto che ho dozzo mi sa no e non lo stavo a guardar si lancia roba chiudi la porta è chiusa chiudi l'altra porta vieni 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 andiamo a vedere un attimo una cosa mangia l'elettricità sei sicuro eh sì non si accendono più le buce porco Odin ci vedo qua non possiamo altro più Ah beh Chi è ancora che si mangiava la luce? Miling, vabbè Ok, Miling Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Hai sentito? Si Giù niente, ma è sopra È sopra per... sopra per... sopra per... Cos'era? Sei stato tu? No Come no? No Che suonate il pianoforte? Si, sembra... Ma quanti bagni ci sono in questa casa di... Ogni istanza ha un bagno Dov'è il pianoforte? Eh, infatti sto cercando Dunque molti suoni, eh? Andiamoci Prove! Prova un tavionetto Si Una mano Prova un tavionetto Quindi un... ultravioletto Congelamento Il mimo A posto, andiamo Sicuro congelamento? E mo' ho fatto il fiatone Eh, bisogna vedere se arriva a basso Oh, 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 oh Ragazzi Che c'è? Sfera di luce Però non mi da nessuna prova con la sfera di luce Sta proprio qua la sfera di luce Sta qua sto stronzo Eccolo Vicino al pianoforte Stava sopra me Ma non lo scrive Ma non lo scrive Ma vado a prendere il telemometro aspettando Abbiamo stronzo Non lo lasciamo incazzare Beh, ne prendo via Due sfere di luce vicino al mimo Qua ce n'erano due Si, vabbè, ragà Spegni la troncia, per favore Sfera di luce non ti dice niente Eh, per favore C'era scritto che il mimo Vicino a lui C'erano due sfere di luce E qua ce n'erano due Secondo me è il mimo Sto sicuro, c'erano Vediamo Il port guys avrebbe già lanciato qualcosa, anzi Si E' tanto azzia Che ha suonato? Non mi andò da me C'erano due Ascende? Si, si, arriva sotto a zero con il gelamento Ok, è il mimo È il mimo, quindi Sembra un mimo Ah, c'è te forgot Mamma mia Che cazzo Avevo visto due sfere di luce Quella mamma ha dato una conferma Che non lo devi mettere come prova, capi? Lo devi mettere come Conto finale Mi mancano a 100 punti exp Mi mancano a 100 punti exp